Salve a tutti, vorrei ringraziarvi per questo invito, soprattutto la segreteria organizzatrice del Consorzio Futura. Mi dispiace non poter essere lì con voi, però per problemi di dati, di impegni e anche di orari, venendo dalla Sicilia, risultava un po' problematico con altri impegni già in agenda. Però spero che questo video possa essere altrettanto esaustivo, cercherò di non stancarvi in ogni caso. Dunque, vorrei parlarvi dei prerequisiti dell'apprendimento nell'ambito della consapevolezza fonologica, dunque, che cos'è, l'aspetto della valutazione, un po' più sul potenziamento e poi una piccola parte relativa allo screening su IDSA. Vorrei però partire questa presentazione parlandovi del lavoro che hanno svolto i colleghi su questo screening nelle scuole dell'infanzia della regione Abruzzo, che hanno presentato al Congresso ARIPA, che rappresenta l'eccellenza dei congressi nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento. L'ho trovato davvero utile per tre motivi. Punto uno, il grande numero di partecipanti. Questo vuol dire che sono stati osservati tanti ragazzini, già come diceva qualcuno anche anni addietro, un ragazzino osservato è un ragazzino che migliora. Dunque, già l'osservazione ci porta a riflettere sui processi di apprendimento. Secondo punto di interesse è che, tecnicamente, devo dire che ha seguito dei punti che condivido pienamente, e questo lo vedremo anche nella parte finale di questa presentazione. E terzo punto, il fatto che ne consegue anche una logica temporale, in quanto ho visto che è scandito appunto nel tempo, e non è il classico screening, insomma, quello mordi e fuggi, identifico, consiglio e poi scompaiono. Si rimane sempre a contatto col territorio, la collaborazione per quanto riguarda l'intervento, con le scuole, ed è questo quello che andiamo a fare. Dunque, un grande applauso a questo reggio lavoro decisamente indefesso da parte dei colleghi. Bene, vediamo l'argomento di questa presentazione. I prerequisiti dell'apprendimento. In questa immagine potete andare ad osservare il modello di sviluppo delle abilità di lettura e di scrittura, dove nella prima fase abbiamo la fase logografica. All'interno di questa troviamo altre sottofasi, poi c'è la fase alfabetica e così via. All'interno di queste fasi, il modulo più importante e principale, affinché si possa poi sviluppare tutto, come andremo ad approfondire, vi è la consapevolezza fonologica. Vediamo che cos'è nel dettaglio la consapevolezza fonologica. Bene, vado a leggere dalla definizione originale. È la capacità di riconoscere ed utilizzare i costituenti fonemici del linguaggio parlato, cioè di operare con i fonemi. Dunque, ciò che io ascolto è saperci lavorare anche a livello linguistico. Quindi comprende la capacità di saper elaborare i più piccoli suoni con cui è scomponibile una parola, ossia i fonemi, appunto consapevolezza fonemica, e sia le unità più grandi come le sillabe, i ruppi di sillabe. Dunque, la consapevolezza fonologica è questa abilità metalinguistica, infatti molto spesso il sinonimo è collegato con la metafonologia, in quanto implica una riflessione cognitiva vera a che fare con i suoni delle parole ed è considerata importante e fondamentale per il processo di apprendimento, come vedremo anche nella seconda parte. Per quale motivo è considerata così importante? Vi cito un lavoro di ricerca di Savelli del 2008, pubblicato in Dislessia, volume 5, numero 3, in cui vi lascio tutta quanta questa parte in cui vi è messo per originale quello che si intende, però vado a estrapolare semplicemente qualche frase. Dunque, un lavoro di ricerca in cui viene effettuato un tipo di approfondimento in bambini considerati a rischio ed è emerso che dalle prove di sensibilità fonologica vi sono delle alte correlazioni. Quindi questo sembra confermare che questo tipo di abilità siano altamente correlate con la consapevolezza fonologica e poi può essere suddivisa a sua volta in varie piccole sottoabilità. Dunque, in questa slide, come notate, ci sono vari lavori di ricerca e tutti concludono nella medesima direzione, ovvero che la consapevolezza fonologica è quel tipo di abilità che riesce più delle altre a discriminare nell'ambito della lettura e della scrittura, scrittura ortografica, a identificare i ragazzini che successivamente, con più alta probabilità, potrebbero avere poi difficoltà nell'ambito della lettura e della scrittura. Vediamo un po' però l'aspetto legato alla valutazione, ovvero come andiamo a valutare questa consapevolezza fonologica, molto semplicemente con attività valutative nell'ambito della metafonologia. Vi faccio vedere qualche esempio pratico. Ad esempio abbiamo tratto dalle PRCR2 la ripetizione di non parole ba, pun, gli, blitz, vi leggo un'altra serie, nanta, sespe, terza serie, liltri, sestre e così via, insomma, in cui il ragazzino deve ripetere correttamente quello che ha ascoltato. Questo è la consapevolezza fonologica pura. Oppure, tratto dalla BUN 511, che consiglio come materiale cardine per quanto concerne valutazioni intermedie, valutazioni non diagnostiche ed anche screening a livello scolastico, proviamo dei test quali l'analisi fonemica e la fusione fonemica, in cui il ragazzino deve andare, sostanzialmente, ad unire o separare i fonemi. Vi faccio un esempio. Il ragazzino gli si dice, guarda, adesso ti dirò una parola come oro e tu mi dirai O-R-O. Ad esempio, casa, il ragazzino dovrebbe dire C-A-S-A. Quindi deve fare questo tipo di analisi di tutti i fonemi. Chiaramente meglio riesce ad analizzare il fonema e più punti prende, più punti prende e meglio va. Fusione fonemica, invece, ti dirò una parola come ad esempio O-R-O e tu mi dirai la parola unita, oro. Ad esempio, M-A-R-E. Che parola è? Mare. Oppure, provate voi, con un'altra parola C-A-M-P-A-N-A. Che parola è? Campana. Bene, come potete notare, è un tipo di attività in cui è necessario sviluppare questo tipo di conseguenza fonologica per poter avere un punteggio che vada dalla norma in su. E, come detto, è la conseguenza fonologica. Dunque, nel momento in cui in queste prove, ma anche in altro, come vedremo, in cui otteniamo delle difficoltà sostanzialmente osservative e in cui possiamo cominciare a sviluppare un tipo di ipotesi del tipo ma questo ragazzino può avere realmente difficoltà nella lettura e nella scrittura e approfondiamo, chiaramente, successivamente. Però di questo ve ne parlerò nella parte relativa allo screening, insomma. Bene, per quanto riguarda le attività di potenziamento, chiaramente andiamo ad agire con esercizi ed attività che puntino ad attività di consapevolezza fonologica, come ad esempio in questa prova il ragazzino deve andare a riconoscere la parola con il fonema iniziale diverso. Ad esempio, cellulare, ciliegia, cestino, cipolla, ciambella, pianta. Chiaramente è differente, insomma. Oppure, in quest'altra prova, deve scegliere due parole fra le tre, considerato il fonema iniziale. Albero, anatra, pera. Quindi, qual è quello differente, qual è quello giusto. Sono tutti lavori che si fanno senza che vi sia la necessità che l'abilità di lettura sia sviluppata, come potete notare, insomma. Anche poi per il potenziamento è la stessa cosa. Infatti molti mi chiedono, ma come faccio ad aiutare un ragazzino nella lettura che fondamentalmente non legge? Quindi ragazzini con forti difficoltà nella lettura in prima, seconda, elementare, o con diagnosi di dislessia grave in terza, elementare. Beh, con esercizi relativamente alla consapevolezza fonologica, in cui vado a sviluppare il prerequisito della lettura, insomma. Bene, quindi questa è la consapevolezza fonologica, per intenderci. Ho ridotto chiaramente di molto tutto l'aspetto tecnico, sia per non stancarci, visto il canale che stiamo utilizzando, e sia anche per andare oltre in maniera molto più tecnica per quanto riguarda lo streaming relativo ai DSA. In quanto lo streaming che ho visto fare dai colleghi, uno dei motivi per cui l'ho apprezzato, è perché proprio rientra in quello che, dal mio punto di vista e non solo, rientra in quel tipo di attività preventive consigliate d'eccellenza per i DSA, insomma. Andiamola a vedere subito. Quindi vediamo insieme questo modello operativo di streaming relativo ai DSA. Premessa, la Consensus Conference sui DSA, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità del 2011, raccomanda che per individuare i bambini a rischio con i DSA si utilizzino contemporaneamente più fonti, ovvero l'anamnesi, relativamente al caso in esame, questionari ai genitori, valutazioni, previsioni, informazioni, osservazioni da parte degli insegnanti, e anche, chiaramente, batteri di screening. Dunque, da mettere insieme. Chiaramente, andare a fare solamente singolo test da cui poi si va a estrapolare questo ragazzino è segnalato e questo no, ripeto, solamente dal test, si rischia notevole di far venire fuori qualche falso positivo o falso negativo. Bene, in quest'altra ricerca, e chiaramente segue questo tipo di modello del Comitato Epidemiologico Nazionale sulla Dislessia di Barbieri ed altri, alla fine poi metterò la bibliografia di riferimento, vediamo questo modello di screening sui DSA. Ed è suddiviso in tre livelli. Primo livello, che ha coinvolto tutti i bambini frequentanti dell'assi selezionato, individuando i soggetti con difficoltà di apprendimento del codice scritto attraverso prove di base, informazioni raccolte agli insegnanti. Quindi, un breve questionario da parte degli insegnanti, un altro breve questionario fatto ai genitori, in questione di rilevazione da parte dell'insegnante che contiene domande relative alle difficoltà di lettura e di scrittura, la prova di dettato a ragazzino è una prova di comprensione del testo della lettura, insomma. In questione, chiaramente, sono state individuali, in modalità individuale per ogni bambino del plesso di ogni bambino selezionato. Un secondo livello di valutazione è limitato ai soggetti che sono stati rilevati come positivi nella fase precedente, quindi da qui, chiaramente, abbiamo lo screening, ovvero una prima fase, andiamo a selezionare dei soggetti e facciamo un'altra slematura. Questo è stato effettuato da un operatore competente che si è legato a scuola, andando a vedere sia le competenze della lettura attraverso prove intersense, sia le competenze cognitive generali con un piccolo subtest cognitivo. Quindi l'obiettivo di questo secondo screening, oltre alla conferma del sospetto del DSA emerso nel primo livello, in certi casi, chiaramente, non tutti, è stato quello di ridurre il numero, chiaramente, dei falsi positivi che abbiamo costantemente negli screening, appunto, si chiamano screening e non valutazioni. Sono stati, quindi, eslusi i ragazzini che hanno disabilità intellettiva nota, i ragazzini non di nazionalità italiana, quindi con quanto le difficoltà linguistiche presumibilmente potevano aver inciso con il tipo di risultato e che non avevano frequentato la scuola per un periodo sufficiente ad apprendere, insomma, attraverso il calcolo delle presenze e assenze. Bene, la terza fase, invece, era quella del classico invio presso lo specialista che andava ad effettuare una valutazione, appunto, specialistica, e quindi poi completare l'inquadramento e l'accertamento diagnostico. Attraverso questa procedura è stato individuato circa un 2,9-3,2% sulla popolazione in età scolare, quindi quando facciamo uno screening che si ferma ad un primo o un secondo livello è ovvio trovare dei numeri e delle percentuali superiori a questo tipo di entità. Nel momento in cui andiamo ad approfondire, a setacciare ancora di più i casi eliminando i falsi positivi e i falsi negativi, quello che andiamo a trovare è una percentuale nazionale media, appunto il famoso 3-4%, insomma. Bene, poi una restante piccola parte è ricevuto poi anche diagnosi cliniche e di altri tipi di disturbi dello sviluppo. Bene, questo qua è un tipo di lavoro di Barbiero ed altri, come vedete ho inserito qui la bibliografia di riferimento per andare ad approfondire. Conclusioni. La consenza fonologica rappresenta l'abilità cardine su cui puntare gli screening prescolari. La valutazione si effettua attraverso prove di analisi e fusione fonemica e di ripetizione di non parole che troviamo in varie batterie di test. Per quanto riguarda il potenziamento utilizziamo esercizi di analisi e fusione fonemica e comunque esercizi nell'area e nell'ambito metafonologico. Le conclusioni relativamente al modello di screening da utilizzare è quello che riguarda più che altro le fasi che noi andiamo ad utilizzare. Quindi, in una prima fase andiamo ad individuare i bambini che hanno difficoltà tramite le informazioni e le dati dei genitori, insegnanti e ragazzini stessi con i test. Fase 2 approfondiamo tutti i casi individuati nella fase 1. Nella fase 3 andiamo a un'ulteriore strematura ad approfondire ma è specialistica solamente i casi che già sono stati identificati nella fase 1. I casi che rimangono dalla fase 2 vanno poi nella fase 3 in maniera assolutamente specialistica. Dunque, io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio anche per l'invito e spero di poterci vedere presto e soprattutto che questa presentazione possa essere stata utile per tutti quanti voi. Che dire, a presto e grazie ancora. Grazie a tutti.